Saluto Riccardo Nuti, proprio del Movimento. Buon pomeriggio. Buonasera. Ho detto bene guardare con diffidenza a eventuali cambiamenti dell'Italicum? Beh, sì, direi che ho detto bene per il semplice motivo che chi cambierebbe l'Italicum sono gli stessi che fino ad un anno fa ci hanno detto costantemente che era una legge meravigliosa, che era giusta finalmente una nuova legge elettorale. E oggi in base ai sondaggi e ai risultati che vedono vincente il Movimento 5 Stelle con o senza questa legge elettorale la vogliono cambiare proprio perché probabilmente potrebbe favorire il Movimento 5 Stelle. Ecco, noi abbiamo sempre detto che questa legge è pessima, lo abbiamo detto più e più volte e ci sono detto che era invece una legge positiva. Abbiamo fatto una nostra proposta di legge elettorale che abbiamo chiamato il Democratellum e nonostante questo ci hanno votato no e ci hanno detto che non era buona. Ora, dopo un anno, ci dicono che vogliono cambiare l'Italicum e chi dovrebbe cambiare l'Italicum? Sempre quei soggetti che prima ci hanno detto che era una buona legge. Capisce bene che non possiamo che essere abbastanza perplessi e dubbiosi e dire che non si può pensare di cambiare una legge elettorale in base ai risultati elettorali e ogni anno. Sicuramente noi non pensiamo, concludo, noi non pensiamo che questa sia una priorità del Paese. Ci sono 10 milioni di poveri, 11 milioni di persone che non si possono più curare perché non hanno più le risorse economiche per curarsi e abbiamo dei parlamentari che non vogliono tagliarsi lo stipendio, nonostante alcuni, quelli del Movimento 5 Stelle, si riducono lo stipendio. Infatti una delle nostre proposte che andrà a settembre in aula alla Camera sarà proprio quella del taglio degli stipendi di tutti i parlamentari. Queste sono delle priorità per il Paese, non certo la legge elettorale. Resta però comunque importante anche sapere come eleggeremo eventualmente il prossimo governo e non c'è dubbio che dopo l'esito delle amministrative e con la vittoria del Movimento 5 Stelle in, se non ricordo male, 18 ballottaggi su 19, 19 su 20. C'è gente nel Partito Democratico che ha detto che così andiamo a perdere. Per la verità non Renzi, non Laboschi e quelli che lei diceva hanno sempre difeso strenuamente, a parole continuano a difenderla. L'idea di un cambiamento è quella di consentire la formazione di coalizioni, quindi dare il premio non alla lista, ma dare il premio a un gruppo che potrebbe mettersi in alleanza magari contro il Movimento 5 Stelle. In questo senso questo cambiamento è un peggioramento rispetto all'Italicum per voi? Cioè allora meglio l'Italicum così com'è? Ma ripeto, ogni volta che questi soggetti, sia quelli che sono di maggioranza o quelli che sono di finta opposizione come SEL, vogliono mettere mano alla legge elettorale, lo fanno per modificarla a proprio uso e consumo, non per i cittadini. Non si può fare una legge contro il Movimento 5 Stelle. A questo punto scrivono direttamente che il Movimento 5 Stelle non può candidarsi alle elezioni e così facciamo prima. Noi riteniamo da questo punto di vista che questa volontà di premiare le coalizioni, cioè gli agglomerati di partitini e partiti per sconfiggere il Movimento 5 Stelle, sia qualcosa assolutamente di pessimo e che sarebbe ancora un peggioramento rispetto a una legge che già di suo, l'abbiamo sempre detto, è negativa. Leggo le dichiarazioni di Battista. La campagna contro il referendum, il no al referendum, svichiamoli dalle poltrone, il modo migliore per bloccare in un colpo solo le schifezze delle riforme costituzionali e un italicum che produrrà un Parlamento di nominati. Ecco, questo modo migliore è votare no al referendum. Però mi scusi, questo non è vero? Cioè il referendum non c'entra con l'italicum? O sì? Cioè il fatto è che anche se si votasse no al referendum, poi si avrebbe l'italicum per la Camera e il cosiddetto consultellum, insomma un maggioritario per il Senato. La revisione costituzionale che viene chiamata impropriamente secondo me riforma costituzionale è strettamente legata alla legge elettorale all'italicum. Per questo molte persone, molti costituzionalisti parlano di pericolo per la democrazia. Proprio perché è un combinato disposto di due provvedimenti veramente pessimi. Quindi votare no al prossimo referendum che ci sarà probabilmente ad ottobre o giù di lì permetterà ai cittadini di non peggiorare quella che è la situazione attuale. Perché purtroppo con questa maggioranza di migliorare le cose non se ne parla. Lei considera che per esempio abbiamo proposto durante le riforme costituzionali l'abolizione dei vitalizi. Abbiamo proposto il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e il dimezzamento del numero dei parlamentari. A queste tre semplici proposte hanno votato, votato no. Quindi se lei considera che per ogni ora, ogni ora che viene utilizzata alla Camera per lavorare costa agli italiani 100.000 euro, mi chiedo se dobbiamo utilizzare 100.000 euro all'ora, sottolineo all'ora per modificare la legge elettorale, o se invece non vale la pena votare no a questo referendum costituzionale e mandare questi soggetti che fanno finta di essere dei politici, in realtà, come abbiamo sempre detto, sono più dei ladri che dei politici, li mandiamo finalmente a casa. Sì, però poi dopo con le altre elezioni ne arriverebbero altri che costerebbero lo stesso. Eh no, probabilmente potremmo avere un Movimento 5 Stelle al Governo che riuscirebbe a ridurre veramente i costi. Voglio salutare...